E' un sacco di cose fighissime da far vedere Esattamente abbiamo preparato questo video credo Nelle ultime due settimane Perché volevamo finire tutto quello che si può fare Finale col botto Esatto Sta piovendo perché siamo arrivati sulla mappa Prima era notte poi piove Sempre bello Sempre una fortuna incredibile Ma è ora di mostrarvi la mia casetta Tu dove sei scusami? Qui sopra Dove? Qui sopra Oh oh cosa stai facendo con l'elicottero? Sto caduta di sotto Ciao Sai che quell'elicottero rimarrà lì così che flutua per sempre? E vabbè carino dai Ti lascio un elicottero in più Guardalo Preferivo non averlo Comunque venga le faccio il tour della mia casa Ok? Ok ok ci sto Seguimi Seguimi qua ci sono le scale Le hai mai viste delle scale? No guarda Ok Mai viste vita mia Da che parte iniziamo? Prego di sedersi in questa bellissima altalena Uh Ma Proprio recensioni ottime direi Le scrivono mentre sono sull'altalena Col telefono Che ti iniziano a scrivere le recensioni Assolutamente Emozioni incredibili sull'altalena Di Steph e Jeff Capito? Ok Se vuoi lasciare una recensione Ti lascio due minutini Sì al massimo posso lasciare una recensione negativa Per distruggere No 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 I tuoi sogni di gloria Continuiamo 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 Dove andiamo adesso? Allora qua abbiamo un bel ponte Guarda che bello Lungo 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 Io ti vedo fermo Davvero? Cosa stai facendo? Parcheggiando Parcheggiando Quello non è un parcheggio È un parcheggio perfetto Sì Ma Hai visto che ha terraggio? Perfettissimo Comunque Lo farò esplodere con un mazucca Continuiamo il tour Che hai voluto interrompere Perché è troppo bello Allora Venga qua Guarda che bel pontizello Questa è la zona di relax post Lavoro Come puoi vedere Questa si cosa Perché magari uno lavora Uno gioca Io penso a tutti Ma questa tv è nuova Sì Si chiama mini tv Hanno aggiunto cose nuove nell'aggiornamento Non me lo dire Le vedremo con calma Questa è una tv piccolina Perché comunque E finalmente ce l'hanno fatta a capire Che dovevano mettere una tv piccola All'altra era così gigante Usciva fuori dalle stanze Ce l'hanno fatta a mettere una tv un po' più soglia Guarda che bello Qua ti siedi con i tuoi colleghi Lì c'è il frigo Per berti la tua bella Chi sono i tuoi colleghi Coca cola Secondo me tu non hai colleghi Andiamo avanti Andiamo avanti Stai facendo di avere amici Fin da avere amici Qua c'è l'angolo VIP E' presente quando in discoteca Compri il tavolo privè No Eccolo Non ci vado in discoteca Guardami Lo vedi che sono più figo di te Perché sono seduto nella sedia Non tanto Vorresti il mio posto No grazie Esclusivo No no grazie Andiamo Continuiamo 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 Salve Salve C'è un Ma c'è un leone Un jaguaro Un jaguaro ci vuole Però capitan Jeff L'importante è che non se la mangi Fa paura però la maschera che ha Guarda è cattivissima Guardala Non hai vista la maglietta che ci ha scritto noobs Ed è censurato Come dire Io con i noobs non ci voglio avere nulla a che fare Esatto esatto Sì secondo me sta cercando di spaventarci Ci vuole spaventare con la sua maschera Terrificante Guarda che bella cosa che c'è Lei sale Questo è l'ascensore Ce l'ha anche in casa mia Sì è bello Tutto ok Sì sì Ti vedo nello stesso modo Però sì ok Qua vabbè C'è un elicottero di troppo Ma faremo finta di nulla Bellissimo elicottero quello Non so come lo riprenderò Però vabbè Non mi interessa Altro ponte lungo come quello di prima Perché mi sono piaciuti molto Sì sì bello E qua c'è il mio castello Qua c'è il gazebo Bello questo gazebo Ok alla sinistra Abbiamo un elicottero Giustamente Ok Qui alla destra Abbiamo il dirigibile L'airship Sarebbe la nave questa Esatto Qua abbiamo un cannone Giusto per andare dritti Allo shop Per risparmiare strada E questo è nuovo Sì Questo è nuovo Perché non l'avevo mai visto Finalmente ce l'hanno fatta Fare l'elicottero Con lo spazio Per poter mettere Il raccolto è bellissimo 16.000 gold Alcuni consolini Mi hanno incontrato In questi giorni E sanno che sono rimasto Dentro al gioco Tipo 8 ore Solo per questo elicottero Solo per farvelo vedere No Come no Non è tuo Mi dispiace Lo distruggeresti No Allontanati Allontanati dal mio Devo scappare Devo Devo No Ce l'ho fatta Sono dentro lo stesso Vedi quello è lo spazio per me Sì Perché il signor maielino Abbiamo bisogno di tanto spazio Quindi sì Sapevo che il posto adatto Per me è bellissimo Bellissimo Lasciami in pace Fammi vedere cosa tutto c'è Ancora io non ho guardato nulla Voglio la sorpresa Cosa tutto c'è Lo so che tu non hai guardato Allora Prima di tutto Abbiamo questo bellissimo Orologio del nonno Guarda Vedi Oh bello Ma questo è più da salotto Però Ah si chiama loro Pensavo stessi E invece si chiama Orologio del nonno davvero Ok Infatti Te lo volevo giusto far vedere Lo piazzeremo da un'altra parte Magari Questo ci sta bene secondo me Sai dove? Nel castello Nel castello Vedi Ricorda Almeno questo un po' Arredamento vintage Quindi ci potrebbe essere bene Sì Una libreria Guarda che bellina Finalmente ne hanno fatto una piccola Perché anche questa C'era soltanto extra large Che usciva fuori dalle pareti Pure quella Esatto Quindi hanno sistemato un po' Questo che sinceramente Non ho neanche ben capito Cosa dovrebbe essere Devo essere proprio sincero Ma faccia vedere Questo Guarda Io so tutto Ah vabbè ma questa è una sorta di Non è un comodino Sono praticamente quelle mensole da salotto Dove tu ci puoi mettere sopra Appunto vedi una tv Un computer Ma posso piazzarlo anche in aria che vola? No Non credo Peccato Mi sarebbe piaciuta in aria che vola Vabbè è una sorta di scrivania Con più scomparti Ok Ok Poi c'è l'orologio del nonno Ah questo è bello L'orologio Che cos'è? Questo ti piacerà di sicuro Guarda L'ho visto Oh no Che carini Ci sono i pesci pagliaccio Questo è Nemo Vedi questo è Nemo Che carino Ecco ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok Sono dietro di lei Vado pure Faccio a strada Mi segua? No no facciamo incidente Si calmi un attimo Io vado a 30 Tu a quanto vai? 35 Ok allora stai attento a non schiantarti sopra di me Esatto Infatti faccio un po' una curvezza Guarda che bello che sono È bello È bellissimo Mi piace un sacco Costa un po' tanto eh Perché 16.000 gold Sono davvero difficili da farmare Però è bello dai Almeno sì Apprezzo tantissimo Che ora si possa andare A raccogliere con La frutta con l'elicottero È fighissimo Esattamente Sto cercando di ricordarmi la strada per la miniera Ma secondo me Da questa zona ce la facciamo Ecco c'è subito un cristallo viola Bravissimo Vado Mi sono incastrata Vado a prenderla Mi sono incastrata Mi sono incastrata Arrivo 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 È davvero difficile Scherzi Allora Ok ce l'ho fatta Mi vedi? Sì Ok Sì 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 Prendo il cristallo E lo metti direttamente lì Guardami Opla Oh che bello Finalmente Bellissimo comunque Se vuoi prendi un po' di cristalli Perché poi li metti nel mio elicotterino Ah dici quelli normali? Eh sì Tipo questo guardami Ah beh anche tu hai ragione Io mi avvicino così E allora prendo questo Oh oh Opla Dimmi quando ci sei che devi fare il canestro Eccomi Eccomi arrivo Vada Arrivo Lo tiri dentro Ti affermo Oh No aspetta non ci riesco Devo Sei troppo in alto Fatto? Aspetta l'ho buttato in terra Allora un secondo Ce la faccio Ok Ecco fatto Brava Brava Venga signorina Arrivo Andiamo a testare l'elicottero con i banani Dato che cristalli ce n'erano pochi Voglio testarlo in modo un po' migliore Questi banani valgono tantissimo Perché praticamente in quest'albero più grande Crescono banani giganti E non sto scherzando E quindi vogliono più soldi No lo vedo Lo vedo Sono enormi Sì ci credo Ci credo Allora Ce la fa? No È un po' complesso Però puoi metterlo davvero comodo Sì 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 Perfetto Questa cosa è ottima Ole 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 Mi piace proprio comunque questo elicottero Mi sta davvero piacendo tanto Guarda è comodissimo alla fine Dai Guarda sinceramente sto iniziando a pensare che i 16.000 gold li vale Perché ti fa fare davvero un sacco di soldi in fretta Assolutamente sì Qualcuno comunque è passato prima di noi prendere i banani Perché ce ne erano pochissimi E ci rubano i cristalli E ci rubano i banani Signor Maielino è davvero arrabbiato in questo momento Sì Si sta scocciando E ha intenzione di fare qualcosa? Sì Sì Dimmi Di dare fuoco a tutta la foresta Perché ha detto che se le cose non le può avere lui Non le deve avere nessuno Capito? È un po' estremo Un po'? Sì Eh vabbè Non è colpa mia se lo fanno arrabbiare Scusami eh Ho riempito un pochettino Direi il cesto Giusto un po' Allora Voglio 950 silver Addirittura Ma ci stai andando troppo largo Sì infatti non me li darà mai Non te li darà Secondo me sui 500 Anzi 300 650 650 300 650 Vediamo Vediamo E muoviti a contare dai E c'è troppa roba Veloce Veloce su Non ci faccio attendere 523 Ah via di mezzo Però belli Eh però non male 500 silver sono tanti Scusami C'è male Non ce ne puoi lamentare Andiamo a casa tua Sì Andiamo Allora Qual è? Eh non lo so Come non lo sai? Questa 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 Qui di fronte Ok andiamo E si è schiantata Sto avendo dei problemi di guida Credo che Non vorrei dire nulla Ma mi sa che non ti piace molto guidare gli elicotteri No sai che cos'è? Che signor maielino con le ali fa vento E quindi fa sbandare l'elicottero Sì è più difficile Eh sì è più difficile Ci sono le turbulenze Se tu avessi signor maielino capiresti Invece non ce l'hai e non puoi capire Ok Allora cerchiamo di parcheggiarlo Non ce la farò mai Posso fare un testo molto Cosa? È una pessima idea te lo dico No allora non ci provare Lo sto facendo Cosa devi fare? Praticamente vado super in alto Ok Ok E cerco di cadere dentro il cannone Non ce la farei mai Aspetta Aspettami Vado su e voglio vedere la tua riuscita Il mio schianto Ho la tua capito Mi schianterò per terra bata Dispatta incredibile Aspetta arrivo Non farlo senza di me non ti permettere Sto arrivando ok Sono qua Vado Dove sei poi? In altissimo Ma non ti vedo perché c'è il sole Vai Prova Al massimo ti vedo cadere Ok Non è andata Non è andata Comunque Dannazione Allora Sei già qui sopra Ho fatto l'elicottero Quindi facciamo vedere velocemente la casa Sarà per sempre lì Vabbè Io neanche lo vedo Dove cadere È in altissimo Allora dai mi faccia vedere Su Allora qui c'è il cannone Ok Castello ovviamente Non ho finito di arredarlo Perché abbiamo già detto Che non c'è l'arredimento medievale Ok Questa zona invece Anche io ho l'altalena Guarda Carinissima Oh L'hai messa in alto tu Sì l'ho messa in alto Appunto per avere Un panorama maggiore Bravo Bravo Vuoi lasciare la recensione Che è sulla mia altalena No Tu non ce l'hai TripAdvisor 150 stelle Tu non hai TripAdvisor A 150 stelle No 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 L'ho fatto adesso Perché tu non sei Steph and Jeff Quindi non ce l'hai TripAdvisor Allora Signor Maialina Ha un sito esclusivo In cui tu non potremmo entrare In cui lascia le recensioni Solo lui Ok Allora non importa nessuno Si chiama Maialina Advisor Che fantasia Non l'hai letta No troppa Bellina La camera da letto Ti piace però Questa discesa Trampolino collegata Alla camera da letto Sì perché capito Mi è sembrato divertente Raggiungere la camera da letto Col trampolino Comunque no Puoi anche scendere Da birbantelli proprio Esatto Ti devi mettere Verso il cannone Abbastanza in alto Ok Allora livelli di direzione Ci sono Esatto Un po' più in alto Secondo me Così Proviamo Vai Non ce la faremo Vai Ce la facciamo Sono pronta Ce la facciamo Sono pronta Spara Ci Eravamo vicinissimi Però l'hai visto Ma sei passata sotto Sotto sì Quindi leggermente più in basso Ok Allora facciamo un altro tentativo Per forza Perché ormai Sì 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 Ormai bisogna riuscirci Resto immobile Anche con le turbulenze Di signor maialino Resto immobile qua Sì Devi stare attento Che signor maialino Ti fa volare via Devi stare attento No più che altro il passato indirigibile Che se mi prendeva Volavo nella luna È pronto signor Steph Vada Allora Ora o mai più Questa è la volta buona Secondo me Ora o mai più Dai dai Quasi però ti è centrato Sì Hai sbattuto di testa No allora Allora Almeno questa volta Nella direzione eravamo giusti È difficilissimo Entrare tra il tetto Dell'elicottero Chiamiamolo così E lo scomparto Per la frutta Cioè quello secondo me È impossibile Però dai Sono riuscito a centrarti Quindi abbiamo fatto passi avanti Sei riuscito a dare una testata Al mio elicottero Esatto E quindi va benissimo Chi può vantarsi Di dare una testata A un elicottero Solo io Esatto Bene che ci piace così Se ci piace Sentici un like E se è la prima volta Che vi ho detto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.